...da Kestenbaum, si tratta di Little Baumwahl, al corda ha già ottenuto 9.20 in fase eliminatoria, quindi potrebbe guadagnare posizioni se riuscirà in questa sua specialità a riproporsi su questi livelli. Dopo il primo turno era tredicesima, per lei 9.225 al nastro. Grazie a tutti. Nonna brilla per tecnica Little Baumwahl, ma Nonna sta costellando di errori la sua prova, adesso una grave incertezza però... Eccola lì, Little Baumwahl ha concluso...